Stop all'aumento dei prezzi del carburante che obbliga tutti i giorni gli automobilisti a fare i conti con spese sempre più alte. A lanciare il grido di protesta è per la prima volta l'ACI che per la giornata di mercoledì 6 giugno ha indetto uno sciopero. L'Automobile Club Italia invita quindi i cittadini a non fare benzina per dire basta a questo continuamento dei prezzi che nel corso dell'ultimo anno sono incrementati tantissimo più 20% anche per via delle troppe accise accumulatesi nel tempo che continuano a rappresentare la forma di tassazione preferita dallo Stato. A sostegno dell'ACI scende in campo con un occhio di riguardo anche la FAIB la quale rilevando quelle questioni poste alla base dello sciopero sono largamente condivisibili dalla piena disponibilità a costituire un fronte a più voci verso il governo per la riduzione delle accise sulla benzina. La protesta di mercoledì, afferma la federazione, segna una presa di coscienza importante da parte di un soggetto che per natura e funzioni pubbliche ha anche altri strumenti per far ascoltare la propria voce alle autorità di governo. Attenzione però alla strumentalizzazione della protesta, prosegue FAIB. Deve essere infatti chiaro che i gestori con gli automobilisti sono anche loro vittime principali del caro benzina con la caduta drammatica degli erogati e degli incassi.